Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo in una posizione un po' strana cioè non alla solita libreria ma siamo nel lato che voi non vedete praticamente mai perché ho fatto un casino, in pratica, questo video io l'ho già registrato e infatti ne vedrete qualche pezzo da un video girato l'altro ieri e ieri mentre stavo iniziando a montare questo video mi sono accorta che non c'era l'audio e non so che cosa sia successo, non ho idea, mi dispiace un sacco perché il video era venuto molto bene e oggi ci troviamo a fare un unboxing del mio negozio preferito e quindi sono mortificata per questa cosa, non mi è mai successa eppure questo è quello che è successo, cioè sono un sacco di clip senza audio e me ne sono accorta il giorno dopo ma noi non ci facciamo abbattere anche perché siamo qui per parlare di belle cose vi premetto già che ovviamente quelle che andrò a fare non sono first impression visto che a me le first impression sono state ieri, l'altro ieri e c'è la prova ma non c'è l'audio e quindi direi che oggi riassuntone per tutti che cosa sto per fare? mi sono arrivati questi tre pacconi che vedete in sovraimpressione da Cosy Corner Candles che è il negozio di Clarissa Clarissa è una mia carissima amica e voi l'avrete vista nei vlog sicuramente e che ha un negozio dove fa candele artigianali 100% made in Italy e 100% vegan perché sono di soia in questo caso visto che si avvicina al Black Friday e io spero come sempre che voi indirizziate i vostri acquisti in una maniera etica e sostenibile il più possibile soprattutto cercando di supportare i piccoli shop so che non è sempre così però io chiaramente sono qua per invitare a farlo perché i piccoli shop sopravvivono soprattutto grazie al sostegno di chi invece che pensare alle grandi catene cerca di fare acquisti di piccoli artigiani e in questo caso chiaramente Clarissa è una mia carissima amica ma i suoi prodotti sono impressionanti sono bellissimi e profumatissimi chiunque li abbia provati può testimoniare quanto vi sto dicendo Cosy Corner è garanzia di qualità eccellente tutte le candele di Clarissa sono ispirate a personaggi o temi letterari e ovviamente siamo nel posto giusto quindi ora io vi faccio vedere tutto quello che Clarissa mi ha mandato e vi parlo anche delle mie impressioni ovviamente impressioni ormai non più a caldo ma impressioni dopo averci ponderato ben bene in questi giorni e dopo averne provato qualcuno e quindi insomma premesse per il Black Friday anche ci sarà un 25% di sconto che non è poco e quindi insomma è l'ottima occasione per provare ad accaperarvene qualcuna per voi e qualcuna anche per fare i regali di Natale non solo ci saranno candele disponibili solo e unicamente durante il Black Friday e quindi è l'unica occasione che avete per accaparrarvele in più alla fine dell'anno tutte le limited edition spariranno dallo shop quindi non perdetele di vista e ve ne faccio subito vedere qualcuna questa è l'ultima collezione che io ho ricevuto ed è la Halloween Collection ne vado a assaggiare una per una parto da quella che probabilmente è la candela che non mi doveva piacere perché questo personaggio soprattutto della serie tv la serie tv a me non ha particolarmente colpito non mi è piaciuta granché la trovo molto aesthetic e basta non mi piace come è stato veicolato il messaggio ciò che voleva dire insomma vabbè ma chi se ne frega non siamo qui per sbrodolare questo comunque vi metto qua il mio video sulla serie di Sabrina in ogni caso questo è proprio Rebellious Sabrina che ha uno sfondo bellissimo perché c'è un gatto e tanti occhi è bellissimo Rebellious Sabrina dovrebbe sapere di Hilda's Toffee Pudding Magic Spices e Vanilla Butter si presenta con questo colore super bianco e l'odore di questa candela in questa candela prevale chiaramente il Toffee Pudding ma c'è anche una punta di vanilla questa io la trovo allora io non amo gli odori molto dolci in generale perché non amo il dolce particolarmente sono più golosa di salato e l'odore molto dolce mi stomaco tendenzialmente però vi devo dire che in questo caso il dolce che sentiamo è l'odore tipico dei dolci inglesi non so se avete presente quindi secondo me pur essendo dolce non è qualcosa di estremamente forte e ha quell'aroma comunque molto caldo secondo me che hanno i dolci del nord o comunque quelli delle spezie della cannella anche se non c'è della cannella qua e non si percepisce però quel tipo di atmosfera lì e questo secondo me è perfetto se amate il fudge se amate tutto questo tipo di dolci se amate gli shortbread eccetera eccetera questa è sicuramente una candela adatta passo a mio marito l'unico marito fiction che io avrò nella mia vita ovvero Sirius Fiction Black in questo caso è Petford Sirius che si ricollega tra l'altro tantissimo come etichetta a quella di Lupin dell'anno scorso non so se avete presente comunque ve la faccio apparire a un certo punto e Sirius sa di Black Pepper Sherry Crack It Leather Jackets il colore non può che essere un grigio abbastanza scuro e l'odore di Sirius è un odore particolare nel senso che è un profumo che ricorda sicuramente la pelle però non in maniera estremamente forte e mascolina non so come dirvi di solito quando c'è la pelle nei profumi è qualcosa di molto molto strong invece in questo caso si tratta di un odore molto più sottile molto più leggero e devo dire che forse fatico a sentire lo Sherry invece me lo immaginavo più forte perché di solito lo Sherry essendo anche alcolico ed essendo anche molto forte si percepisce moltissimo invece in questo caso è quasi sottilissimo e invece c'è una punta di pepe è un odore molto particolare molto buono e di quelli che sicuramente non ti bruciano non so i sensori dell'odore anzi è molto leggero molto avvolgente ti dà quasi la sensazione di quei posti bui e un po' caldi però non lo so mi piace moltissimo in questo caso perché io non amo proprio quegli odori che ti travolgono e ti lasciano un po' stordito e questo non lo è assolutamente poi vabbè è Sirius quindi insomma di cosa stiamo parlando è amore per forza poi vabbè arriviamo a un altro grande amore ovvero il mio alter ego letterario probabilmente in questo caso è Morgane ovvero Morgana Powerful Morgane che sa di Dark Honey Mugget Poison Amber and Sorcery si presenta con questo colore abbinato alla mia camicetta scherzo l'avevo già fatto anche nell'altro video la stessa battuta perché ho rimesso le stesse cose cioè tutto studiato in ogni caso procediamo allora è buonissima allora allora Morgana ha un odore particolare perché è uno di quelle profumazioni molto avvolgenti molto calde e sensuali anche in qualche modo ha questa nota sicuramente floreale che spicca su tutto quindi il mughetto si sente però spicca mescolandosi molto bene all'ambra che è uno dei miei odori preferiti proprio della vita io ho tutti i miei profumi sono a base d'ambra è vero che ognuno di noi ha i propri gusti eccetera ma l'ambra proprio io impazzisco non capisco più niente e c'è anche questa nota un po' più dolce ma non so come dire dolce ma poco poco non so è buonissima è veramente molto caldo è caldo come odore caldo come come profumazione quindi niente Morgana è Morgana è perfetto assolutamente vado avanti perché ne abbiamo un po' e vi ho già fatto un sacco di premesse quindi insomma non voglio neanche ammorbarvi troppo e da una limited edition passiamo ad un'altra come vedete questa è una limited edition con le tin particolari perché sono tin in rose gold per l'autumn collection ha fatto tutte le tin di questo colore e niente ne manca una mancava la mia preferita quindi ora partiamo da quella la prima che vi faccio vedere è Passionate Anna è tratta tutta la collezione da grandi classici della letteratura e grandi personaggi della letteratura che amiamo in questo caso è Anna Karenina e vi dico solo che per due giorni tutta la sala ha profumato di Anna Karenina perché evidentemente l'odore si sentiva addirittura dalla busta si sentiva solo questo e Anna in fondo è una superstar quindi non poteva che essere lei e sa di cranberry vodka rich vanilla e aristocracy si presenta con questo colore super sgargiante molto bello e l'odore mi piace tantissimo allora si sente la vaniglia chiaramente però si sente soprattutto l'alcolico l'alcolico che però ha quella nota quasi di sottobosco di frutti di bosco infatti c'è il cranberry non è una vodka normale ma è una cranberry vodka e si sente si sente ed è un odore assolutamente come io mi immagino Anna infatti io ho sempre pensato che lei ci saremmo prese delle sbronze clamorose insieme ci saremmo divertite un sacco alla fine della fiera ed è esattamente come io mi immagino Anna in uno stato di ebrezza sicuramente anche però con questa nota avvolgente dolce calda molto affascinante è buonissima Anna è veramente incredibile secondo me andando avanti arriviamo a un'altra delle mie prefe della vita proprio ovvero Jane Tenacious Jane che in questo caso è Jane Eyre che sa di Hazelnut Trees Bread Cakes e Moral Values voglio proprio sentire l'odore dei Moral Values si presenta con questo colore verde molto chiaro e ha un odore proprio di allora si sente quasi un odore un po' di pane speziato di dolce un po' speziato ma in maniera molto molto sottile come se avesse della vaniglia come se ci fosse anche dentro qualcos'altro e si sente l'odore della nocciola però non solo non so come dirvi questo odore mi ricorda tantissimo non so come dire un dolce della nonna è molto molto buono ed è non so come dire rassicurante è piacevole è profumatissimo è anche fruttato a modo suo e questa cosa mi piace molto perché non ci sono fiori eppure riesce a dare la stessa impressione arriviamo invece a Josephine Courageous Josephine in questo caso da piccole donne di Louisa May Alcott in questo caso Josephine sa di Spicy Sisterhood Firewood e Ink si presenta con questo azzurro brillante ha un odore abbastanza accentuato e non so come dirvi sa di braccia braccia speziata è una sensazione strana però sa esattamente come quelle sa esattamente di serate davanti al caminetto e c'è tutto c'è tutto proprio il calore delle serate al caminetto perché è speziata e si sente però c'è anche quell'odore proprio di non so di fuoco acceso è come se non so come dire quelle serate davanti al camino con la tazza di qualcosa e un dolce alla cannella sicuramente e non solo chiodi di gherofano non so è molto 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 buona ed è molto molto calda proprio sa d'inverno questa candela e sa d'inverno però davanti al fuoco e quindi si è assolutamente Josephine è buonissima anche questa ok vado avanti e trovo forse praticamente il personaggio che mi ha cresciuto e mi ha tirato su che è Elizabeth Bennet ovviamente in questo caso è Hatchstrong Elizabeth che sa di Robob T Giacinto Mist e Prejudice si presenta con questo colore tortora praticamente allora in questo io sento molto molto forte il giacinto quindi il fiore la parte floreale ma non solo ha qualcosa che mi ricorda non so come dire gli spazi aperti comunque in primavera perché è floreale ma sa anche di pioggia cioè c'è l'odore della pioggia qua dentro mi sta a fiori non so come dirvi però in qualche modo c'è proprio l'essenza della non so come dirvi però c'è proprio l'essenza del more insomma di questi vasti spazi pieni di verde pieni di fiori ma tutti bagnati dalle gocce di pioggia non so come dire mi dispiace devo essere sincera che non ci sia molto più spiccato invece l'odore di Rabarbaro io sono una delle poche che è una grandissima fan del Rabarbaro la torta Rabarbaro è una delle mie cose preferite nel mondo e si usa troppo poca un peccato anche perché è una madonna da cucinare comunque vabbè non eravamo lì però vi devo dire che nonostante non ci sia Rabarbaro sa esattamente di Elizabeth Bennet quindi io volevo Lizzie l'abbiamo avuta e immancabile ok poi arriviamo a una collezione molto 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 corposa tra l'altro io di queste candelle ne avevo chieste due me ne sono arrivate quattro evidentemente c'è qualcosa sotto e lo scoprirete presto perché non posso fare quello che ho fatto ieri in questo video ieri ero sconvolta perché la candela che più odio in realtà finirà per essere la mia preferita è strano rifarlo quindi non ha senso fingere in ogni caso partiamo da Trick Trick era uno di quei personaggi che io non volevo perché fondamentalmente io sto a Trick come sto alle cozze cioè non le ho mai mangiate non mi interessano fondamentalmente allora in questo caso Trick è Enduring Trick Sharp Lemon Sea Salt Locks Tobacco Trail si presenta con questo colore melanzana anche in questo caso siamo molto ok allora l'odore di Trick è un odore molto mascolino però non esageratamente nel senso si sente molto sicuramente l'odore di tabacco che c'è in tantissimi profumi per uomini però ha quella punta agrumata che è dato da Love Sharp Lemon che si sente si percepisce e gli dà proprio una non so come dire un movimento diverso già un non so come dire una dinamica diversa e poi in qualche modo non so dirvi come ma c'è questo sentore un po' lontano di brezza marina cioè si sente qualcosa che è legato al mare e quindi assolutamente fedele agli odori che sono indicati è molto buono molto molto buono se vi piacciono le candele tendenti al maschile gli odori maschili questa è perfetta e devo dire che è adattissima anche a un personaggio come Trick vado avanti invece con Adonai io questa candela proprio a vederla la amo perché Adonai è un po' il personaggio che è diventato uno dei preferiti di tutti nonostante non ci sia alcun motivo per renderlo un preferito ma still we love e in questo caso Sanguine is Adonai adattissimo e sa proprio c'è tipo come di venuzze che non so mi piace tantissimo è sicuramente marmo con venuzze rosse però va bene una roba comunque sa di albino redwoods rusty iron e bloodthirst si presenta bianco come insomma un corpo dissanguato e allora non so come dirvi ma sa di ciò che io immaginavo Adonai sapesse che è tutto un giro strano per dire che è adattissima perché c'è questo odore che sembra quasi di muschio è muschiato come odore quindi fa molta atmosfera è molto sottile anzi più che muschiato forse talcato è più giusto e questo sono odori tendenzialmente che non riesco proprio a definire perché non so cosa sia l'albino redwoods il rusty iron e il bloodthirst cioè so cos'è il bloodthirst ma we can't do that e in questo caso non so come dire è un è un odore proprio di sottofondo molto molto freddo invece cioè è l'odore che ti immagini Adonai abbia e non c'è altro modo di dirlo secondo me al di là di tutto ha il tipico odore del bosco quindi o di uno spazio chiuso però in maniera profumata ovviamente in maniera positiva non è che sa a distanza chiusa tappata da anni però comunque c'è quel moss c'è il talco che secondo me assolutamente sono adatti a un tipo come Adonai e buonissima arriviamo a queste due e adesso vi spiego perché io questa non la volevo ma non fingerò Mr. Kindly invece era quella che volevo più di tutte e adesso apriamo questa poi arriviamo a questa Mr. Kindly è Whispering Mr. Kindly e se avete seguito le mie recensioni sapete che lui è il mio personaggio preferito perché è un po' la voce della mia coscienza cioè immagino la mese di Chen con un Kindly forse avrebbe gestito meglio le cose ma nessuno ha donato a Tiffany un Mr. Kindly quindi sa di Cold Rain Humid Moss e Velvet Pears si presenta in questo grigio antracite allora secondo me di questo si sentono abbastanza come note principali il muschio e il Velvet che non so descrivervi che odore ha il velluto so che è un odore comunque molto avvolgente è un odore sicuramente sensuale in qualche modo però allo stesso tempo questa candela sa di pioggia è vero non so come dire sa di quell'odore di asfalto bagnato che noi amiamo però allo stesso tempo è già diversa rispetto ad Adonai perché Adonai sapeva già molto più di talco secondo me e meno di umidità in questo caso sa di asfalto bagnato ma non è la nota principale è una nota di sottofondo è un odore buonissimo e secondo me è perfetto per usare questa candela mentre si legge periodo di grandi piogge come stiamo vivendo ora è kindly è kindly cioè ti sa proprio di un'ombra nella pioggia arriviamo alla grande di Atreba voi ieri non avete non potete cioè ve le metto le clip ma è come parlare da sola come una pazza in pratica io Ashlyn non la volevo non ho capito perché Clarissa me l'abbia mandata e niente l'odore di Ashlyn che è viperish Ashlyn a me sta proprio sulle balle Ashlyn sa di Star Honeys Peter Pergamot e Bitch Face che è l'unica cosa che io penso di Ashlyn cioè che abbia la Bitch Face si presenta con questo giallo super bright dai colori di Ste Collection comunque si fanno paura sono veramente sembrano pompate con la saturazione in photoshop e niente Ashlyn ha un odore pazzesco è la candela più buona di tutte quelle che vi farò vedere oggi ve lo dico già poi dopo alla fine facciamo un recap così ma Ashlyn è pazzesca perché si sente il bergamotto che è questo odore un po' grumato ma smorzatissimo nelle sue note più forse diciamo piccanti dell'agrume quello più forte da non so dirvi io sento comunque anche un pochino vago 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 di vaniglia molto 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 sottile non so dirvi quale sia la combinazione c'è dell'anice stellato ma che non è estremamente forte anche se si sente non lo so io starei ve lo giuro starei ore così perché Ashlyn nonostante sia un personaggio che io non sopporto è buonissima è buonissima ok manca mia da questa collezione perché mia era già stata fatta l'anno scorso anzi due anni fa e ve la faccio vedere quindi se avete letto Nevernight c'è la collezione completa questa è mia è buonissima questa è proprio molto simile forse più come essendo tabaccosa sapendo di pelle questo è un odore veramente più maschile ma alla fine mia è combatte suda fuma come una ciminiera è lei quella che vi ho fatto vedere non è una limited edition però invece questa sì come vedete è anche rose gold che è la collezione estiva Arabian Nights e in questo caso abbiamo tre candele vado per ordine la prima che io non volevo però evidentemente mi è stata mandata è Wondrous Agrabah tratta ovviamente da Aladdin che sa di Bazaar Aromas Sweet Dates e Wishes i dates sono i datteri si presenta con questo colore super wow anche questo cioè sembra saturato sembra finto da quanto è potente questo viola bello acceso e in questo caso si sentono sicuramente gli aromi perché però non so come dirvi non sa di incenso cosa che io apprezzo perché io non amo l'odore dell'incenso che di solito ti tappa tutto il resto non riesci a sentire nient'altro ed è fortissimo e fastidioso qua ci sono un po' di spezie tipo Bazaar anche in questo caso io sento un po' di talco non so se sia vero ma io lo sento ma c'è una nota un po' più dolce che è data sicuramente dal dattero ed è molto buona è veramente atmosfera e sa di qualcosa di orientale ma non so come dirvi non vi sembra di buttarvi in un curry cioè è molto più più sottile è molto più insomma avvolgente quindi insomma anche questo bene bene insomma molto bella anche se non era tra le mie richieste perché io ho un problema con la Disney però agraba molto bene tra l'altro Aladdin forse è uno dei pochi che mi piace vabbè still passo invece a Desire da Evabad che è tratta da City of Brass ve ne parlai qualche tempo fa ancora devo leggere City of Copper in questo caso sa di Incenso Devamagic Inflamed Copper si presenta con questo odore pistacchio chiaro chiaro e anche qua è un po' l'effetto agraba cioè sa di incenso che a me non piace di solito ma in questo caso l'incenso è quasi un sottofondo quindi non è non ti tappa il naso è molto molto leggero e c'è anche una nota quasi anche in questo caso fuoco acceso no non so sa di proprio fiamma fiamma accesa non lo so è molto caldo anche qui orientale ma senza essere eccessivo cioè non ci stiamo buttando in una ciotola di curry quindi bene o in un non so un mazzo di incensi accesi che sembra una processione è veramente buona anche questa è molto molto adatto secondo me soprattutto all'estate però se vi piacciono invece le atmosfere avvolgenti se vi piacciono insomma i richiami all'oriente questa non ve la potete perdere buonissima tra l'altro city of brass esce l'anno prossimo in italiano tenetelo d'occhio vado all'ultima che invece è sirenic corassan o corassan io non so dirlo perché sono un cane che fa parte del califato è una candela ispirata a the rough and the dawn di renee adieu e sa di rose petal jam lilacs e rich sandalwood si presenta sempre in tono con me con questo color insomma bordeaux e io già ieri nel video lo dicevo però è esattamente come io mi immagino e sa esattamente dell'odore che io mi immagino possa avere la camera di Sherazad perché è assolutamente così si sente la rosa che è una dei temi ricorrenti dentro the wrath and the dawn cioè la moglie del califino italiano che ha una traduzione orribile e si sente la rosa si sente anche il lilacs cioè il lilla quindi si sente non solo la rosa come profumo floreale però si sente anche il sandalo cioè è incredibile qua li riconosci proprio tutti e tre li riesci a distinguere perfettamente è un odore super sensuale molto molto aromatico e secondo me è perfetto adesso dirò una roba che farà arrabbiare Clarissa still sa di bagnoschiuma che per me non è una cosa negativa assolutamente so che Clarissa queste cose non le capisce molto bene però comunque ha questo odore di bagnoschiuma un po' alla tesori d'oriente però non so come dirvi come se fosse stato di super qualità è veramente buonissimo buono buono così è come mi immagino la stanza di Shazzy quindi promosso questo è veramente non vedo l'ora di accenderla siamo arrivati alle ultime due e in questo caso la collezione è sì una collezione limited edition ma è la spring pensate da quanto non vedevo candele allora in questo caso abbiamo Interfering Oberon tratto da sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che sa di blackberries bay leaves e flower juice ha questo odore bellissimo questa punta di azzurro secondo me con una punta di verdino leggera leggera di grigio che è bellissimo allora secondo me si sente moltissimo qualcosa di fruttato sia fruttato che floreale allo stesso tempo è strano non in maniera eccessiva non è un odore di quelli particolarmente strong però si sentono entrambi più però c'è una punta di qualcosa che sa anche di pianta aromatica nello specifico non riesco a distinguerla in questo momento però è veramente molto buono perché è un odore ricchissimo ed è esattamente come io mi immagino Oberon è qualcosa di stravagante senza essere del tutto eccessivo però nella candela e quindi anche questo super riuscito tra l'altro l'etichetta è una delle mie preferite è veramente bellissima ma io sono vintage mi piacciono queste cose poi passiamo a Persephone che in questo caso è Abducted Persephone che sta di Yellow Mandarin Tamask Roses Pomegranate Seeds e si presenta con strano ok con questo odore sempre in tinta io me lo immaginavo molto più giallo non so è la mia testa e secondo me in questo caso si sente molto il profumo di fiore quindi in questo caso la rosa però è anche smorzata è resa però una rosa damascata non è rosa classica inglese quindi ha un odore leggermente diverso cioè è già diverso rispetto a quella di Sherazade per dire quella del Corozan e secondo me anche il melograno gli conferisce quella nota un po' più dolce un po' più avvolgente e anche questa è buonissima Persephone è veramente molto molto buona devo dire forse fatico un pochino cioè è in sottofondo e si sente la grume in questo caso però il mandarino è molto più sottile rispetto agli altri due odori però comunque insomma ottimo ottimo anche Persephone allora io nelle mie top metto sicuramente Corazan perché è buonissima ci metto anche Morgana perché è Morgana cioè è proprio lei in persona che da qualche parte da Avalon riemerge nel nostro mondo in questo caso a Bologna buonissime poi ci metto sicuramente Anna Anna Karenina perché è lei cioè è personaggio reincarnato in un odore con tutta la sua stravaganza tutte le sue follie tutta Anna nei suoi drama negli alti nei bassi è lei e la mia preferita contro ogni logica e contro ogni previsione è Ashlyn cioè Ashlyn ha un odore pazzesco vi può piacere la potrei studiare chi se ne frega come a me ma sta sulle balle eppure ha un odore incredibile veramente buonissimo questo è un mix che io voglio davvero voglio trovare il modo di farmi un profumo ok devo trovarlo e niente detto ciò altro recap da venerdì a lunedì ci sarà il super black friday su cozy corner non vi servono codici ci sarà già il 25% e se seguite lo shop su instagram vedrete anche un po' tutte le varie iniziative seguitelo mi raccomando perché ci sono tante tante occasioni in questo weekend di fuoco e insomma secondo me sono ottimi regali sono super particolari sono una di quelle cose che è anche molto personale per la persona a cui lo andate a regalare ma anche per voi è un bel gesto verso voi stessi non c'è niente di più bello che stare seduti sul divano nella vasca a leggervi un libro con una candela accesa io la trovo una delle cose più rilassanti e una di quelle azioni da self care che a me proprio rinvigorisce tantissimo allora io sapete che non faccio tante promo qua sopra anzi sono proprio interessata credo nel consumo sostenibile e nel consumo sensato so che tutti facciamo fatica nell'indirizzare i nostri denari io vi invito sempre a farlo con un po' di coscienza in più e non a consumare senza una razio e anzi indirizzando i vostri acquisti invece sempre su small shop sapete che state proprio facendo sopravvivere qualcun altro come ingaggiando un freelancer eccetera eccetera sì scusatemi che è anche il mese dell'ultima rata anzi dell'anticipo del 2020 quindi è un periodo triste per me detto ciò io spero di avervi comunque intrattenuto con questo video un po' diverso dal solito ricordatevi che nell'infobox trovate tutti tutti i dati su cosi corner su dove seguirli su come trovare le varie informazioni e niente io vi consiglio ovviamente tantissimo anche per la mia salute mentale che dovrò sopportare Clarissa nei prossimi mesi a scherzo ovviamente a dare un'occhiata così corner che è sempre cosa buona e giusta e niente io spero di insomma che questo video vi abbia intrattenuto scusate se è il meno professionale della storia però nessuno prevedeva che ieri l'audio non andasse e niente io vi ringrazio ancora e direi che ci vediamo al prossimo video ciao